e salve ragazzi e ragazze e bettorotici al mio canale allora prima di farvi vedere questo video devo darvi delle premesse l'audio in cui è stato registrato il gameplay di sword thunder ha avuto i problemi tecnici perchè il mio microfono si è guastato per come dire ha avuto dei problemi di input e non ha registrato male la mia voce infatti per ascoltare meglio la mia voce sul gameplay dovrete accettare il vostro volume in questo gameplay sentirete di più la voce dal mio amico turbo e predator che in futuro farò gameplay su altri giochi con loro un'altra cosa al minuto credo 6 o 5 il gioco mi ha raccassato perciò non ho potuto più registrare quando mi si ferma il gioco, quando mi si crassa, mi si crassa anche il programma di registrazione comunque vi lascio il gameplay, non sarà tanto bello questo gameplay perchè è un po' fatto a cazzo di foca alla fine detto in modo volgare anche perciò ci vediamo al prossimo video ok buongiorno eeeh io sono il mio cofaccia, il mio cofaccia, il mio cofaccia, il mio cofaccia, il mio cofaccia e il mio cofaccia eeeh 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 ah ma si è a perdere il cazzo eeeh però almeno mi ha fatto fuori uno almeno qualser quattro fatti giusto arrivo preda eeeh fatti tu, mi ha giocato di spawn avutoMade eeeh 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 non c'è più e perchè si ferma tu, e perchè si riesce a camberando fai il job io non sto a camberando ma lo ti faccio sovrmendo mamma non so slick mi carabinare con la vittoria andiamo a comandare ragazzi la situazione è veramente pessima mamma non mi ha morito madonna mia oh c'è un cacciaio ma che, ma, ma, ma ma par che miseria ma cazzo negra la tagli, la tagli usa il prato c'è il gioco di Giovanni che guarda il chilometro cos'è? c'è un cappa è un cappa distrutto, distrutto andiamo ho rubato la kill, il ministro è sempre adattato no, lo siamo andati verso no, lo siamo andati verso capo uno, finito di qua cazzo, che cazzo, non ho rubato io la kill ma l'ho fatto io ma che f*** ok colpa critico quando ho un capo uno no almeno sto mancinino che impiegasse un po' di e non caricare e non nessuno vabbè dai tolisco sul porta aeree pure che mi diano lo stuca ma neanche a morire me l'hanno dato no, non è 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 lavoro di squadra mi sto andando avanti a caso provi ne ho sbagliato un secondo eh, ti stanno facendo del male no ma non è mi sono andati lei ha messo non sa che mi hanno fatto un'interno costina non so quando è che muore sto qua? non morirà mai allora devi vedere il mio bambino del colestro ok adesso è turbo sono qui che male guarda quanto non cazzo aeree ma cosa è bombardieri? eh ma cosa è quel robo? ma cosa è quel robo? ah ah ma cosa è quel robo? ma cosa è quel robo? ah tocca tocca ah ah no mi sono attaccato il pelato ho coperto mi stai coprendo ancora ah perchè hai un elefante dietro al tuo cane tu hai un elefante è un elefante ok stiamo davanti al municipio bombardamento dietro bastardo niente non ho capito io sono andato anche a cazzo ma per giove non vedo il cazzo l'incendio è stato restito richiesta per corpo di artiglia aiuto no perché c'è un aereo verde sei tu eccolo no devo scappare sono morto aiuto questi intorni ci hanno fottuto allora i due sono andati a sempre se no ci siamo un cazzo qua mi sa che no grande arrivo arrivo sono no non puoi arrivare non sono niente c'è oh dio mi ha mancato il faccio a 4 oh merda vai predator uccidi tutti con la mitraglia no aiuto no aiuto orco che ha metto mi hanno sguardo a fare il serbatoio mi hanno sguardo a fare il serbatoio mi hanno sguardo a fare il serbatoio ma muro a cosa sto facendo il quadro nooo aiuto 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 ok stavolta evitiamo di fare le cose a cazzo li foca oh no basta basta giusto dai raga li metto io caldo paraboli e si torri e si torri e ciao vabbè tu sei merato all'alto grazie amici mi avete coperto bene mi avete coperto bene amici amici che trovano la bici no 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 ci sente raga no ci sente io ho fatto lo trattino in aria no 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 Grazie a tutti!